...i mani, ovvero, non è proprio il primo pezzo, è tra i primi pezzi, è già la seconda volta che in un concerto, chissà come mai, forse... Siamo comunque molto legati a questo pezzo, si intitola L'ombra del fuoco, parla della cattiveria con cui l'uomo spesso si maschera per paura, solo per paura di ciò che non conosce, questa è L'ombra del fuoco. Grazie. 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 Si risponde il lupo, non hai più di età. Oh, la tua natura, oh, la tua natura, oh, la tua natura, oh, la tua natura. Tuoi capelli rossi, son per loro strani. E' pericolosa donna della sorte, parla con i lupi. E' una strega a morte. Io l'ho vista che va a lavar sopra il fuoco. Salvaci, signore, oh, mio Dio di poco. Ora il fuoco arriva, sangue, gallo e saliva. Oh, e bruciano tra i tuoi capelli. Bruciano gli inserti come sono belli. Bruciano gli sterpi, non hai più i tuoi capelli. Bruciano gli sterpi, non hai più i tuoi capelli. Bruciano gli sterpi, non hai più i tuoi capelli. Bruciano gli sterpi, non hai più i tuoi capelli. Quale una, bel fuoco non hai più i tuoi capelli. dedicato a tutte le donne alle bambine, alle ragazze morte sul ruolo grazie a tutti